Buongiorno, oggi siamo a Baggiovara, avrete sicuramente riconosciuto la chiesa alle mie spalle. Voglio proporvi due appartamenti in questo edificio edificato nel 2005 quasi. Venite con me che vi faccio vedere di cosa si tratta. Entrambi gli appartamenti sono situati in questa palazzina di recente costruzione. Al piano terra troviamo degli studi come quello oculistico, una palestra e uffici. Gli appartamenti sono composti entrambi da un ingresso, una zona living monolocale, luminosissima grazie a una grande finestra e un bagno di servizio. Con la scala in legno accediamo alla parte superiore, dove invece troveremo un altro ambiente vivibile, molto particolare perché abbiamo le travi in legno a vista a tutta altezza e un grande Bellux che continua a dare luminosità all'appartamento. Eccoci alla fine della presentazione di questi due appartamenti. Vi ricordo che a completare abbiamo sotto nell'interrato due posti auto privati e due cantine, una ad alloggio ovviamente. Gli immobili sono a reddito in questo momento, quindi sono un'ottima forma di investimento oppure si possono acquistare per viverci personalmente. Se volete venire a vedere gli appartamenti o avere più informazioni potete contattarmi ai soliti recapiti oppure venirci a trovare in ufficio a Formigine. E se anche voi dovete vendere l'immobile non esitate, contattatemi e questo servizio sarà anche per voi. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie a tutti.